Sì, sì, quello sicuro. Stiamo lavorando bene, soprattutto oggi, su quello che vuole il mister, sulle uscite, sulle coperture preventive. Dobbiamo migliorare la fase di possesso, la fase di uscita, essere più puliti, più bravi e perdere meno palloni. Ma di sicuro quello che fai tu, cioè andare a cercare sempre l'anticipo in fase di intensiva, alzarti molto a quello che ti chiede? Sì, sì, a me poi piace farlo, quindi mi trovo anche bene, però è quello che ci chiede l'allenatore. Filippo, ci sono anche dei buoni stavolta. Per fortuna, è andato bene. Filippo, a che punto hai in Pescara? Perché rispetto alla gara con i primi, ti sei visto sicuramente qualcosa di meglio. L'impressione, insomma, che manca ancora qualcosa per la squadra formato campionato, perché domenica prossima il campionato inizia. Sì, quello sì. C'è stato un miglioramento che si è visto rispetto alla gara con Rimini, dobbiamo continuare così. Magari questa vittoria ci dà anche un po' di fiducia, un po' di morale, visto anche l'uscita, l'abbiamo fatta con i tempi giusti, abbiamo recuperato tanti palloni. C'è ancora da migliorare, soprattutto, come abbiamo detto prima, nella fase di possesso e di gestione della palla. Cosa vi ha detto Colombo a fine partita? Avete avuto modo di analizzare seppur brevemente questa partita? Non ci ha parlato, non l'abbiamo analizzato molto, però penso sia contento dell'aggressività, possiamo migliorare anche lì. E soprattutto possiamo migliorare le uscite, essere più puliti, girare più volte la palla, senza commettere molti errori. Grazie.